I cluster tecnologici sono una risorsa nazionale per l'innovazione? Sì, i cluster tecnologici che sono stati lanciati dal MIUR due anni fa sono un'importantissima infrastruttura leggera per il governo delle politiche di innovazione. Ne avevamo pensati per porre un po' di riordino al sistema dei distretti tecnologici che era andato diversificandosi fin troppo. Abbiamo deciso di riorganizzare in otto grandi priorità tecnologiche l'organizzazione dell'attività di ricerca delle imprese, degli enti pubblici di ricerca delle università italiane e questo in questo momento viene riconfermato come il grande indirizzo con cui il MIUR intende organizzare l'ingaggio pubblico privato sui grandi temi di ricerca anche con riferimento al rapporto con l'Europa. Grazie